È una partita che abbiamo bisogno tantissimo, con questa vittoria possiamo fare un passo grande verso il play-off, quindi dobbiamo essere molto tosti e giocare per 40 minuti concentratissimi. E anche per me è molto particolare perché con Galazzari ho giocato un anno e mezza e ho buoni ricordi, però non è la prima volta che torno contro di loro, quindi questa sensazione è un pochino passata già. Comunque farà piacere tornare qua e giocare con noi. Grazie.